chissà qualcosa parli. Questa mattina nel corso di un'udienza speciale all'indomani della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, Papa Francesco torna a chiedere giustizia per le vittime. Purtroppo le donne molto spesso non soltanto si trovano sole ad affrontare situazioni di violenza, ma poi quando denunciano non ottengono giustizia o i tempi della giustizia sono troppo lunghi, interminabili, ha detto il Pontefice, che ha ricevuto il capo della polizia Lamberto Giannini e i componenti della direzione centrale anticrimine in occasione del lancio dell'edizione 2022 della campagna Questo non è amore. Quest'anno ha sottolineato Francesco l'appello a essere uniti nella lotta per liberare le donne e le bambine dalle diverse forme di violenza, poi ha ringraziato la polizia per il servizio di ogni giorno per la società italiana.